E' un giovane rodone, c'è un contone che aveva mince o meli affonti del grigion o ravventut della surselva, il suop, quale è una regione, il sito della terra tedesca. Le avevano i bambini puri per l'ovrazione con fumigli e fumigli. Molhe affonti di famiglie paupres di altre regioni avevano di fare qui. La paupredà era il motivo di che i affonti, in un nai suopachecler, stavano abbandonare le famiglie. Se vengen erano le raccolti buoni, le famiglie erano più grandi da scocci oggi. Contrometri ne vengen, in i pliri affonti, avevano i genitori di data milià a pli pauc affonti. E i scolari dell'emprema superiore dell'Axfalera insufficientei col schuabackeglars. In il lavoratore del museo regional surselva avevano l'esperienza che montavano di abbandonare la patria. In scola avevano il già trattato in te quel tema. La pagine viene in una condizione diature che avevano i piccoli. Si sono giocati all'ampti e che avevano i piccoli. In 여기는 ovun mbega, che avevano i piccoli. Che avevano i piccoli, in un pianissimo. Che avevano i piccoli. Che avevano i piccoli. Che avevano i piccoli. in viadis o in terpascias a tornavam per poi poi fin d'October avonca la scola e che aveva poi poi da quei tems. Comuntava che i fonsi dentro 6-6 Dijuns erano vende casa per varga miettà on. In fece le un tems. Asci dì che i fonsi dottili di e il mei sta vende casa. Mi accrocio un gius. Ine nei due giorni stia. Forse una giornata n'è sia. Alla fece corte. Ine anni. Quero credo in iamna poclicita. E' altra robita di essere insieme con la famiglia e di amici sora. Ma avonca arriva il schuab era già un premio di fare il viadito che leo. A quel veniva fa il zappai. Se vengono con calze spalto schmalo per i naivels n'isci zona pai blot. In l'ovratore hanno i scolari esseri fanno quella esperienza. Con la differenza che il schuab a cacchers avevano di a pai per adondi in iamna. A compagniai veniva il zappai da di una persona crescita che non conosceva il viadito. A quelles erano il schuab veniva nel spurs ed ancoravano la loro famiglia. Il zappai era quel indirte. Per ina il sang crescer, muo è il lungaccio a ciò che avevano i scolari erano loro patroni molto più flott. E' un po' che veniva mi sloa e non vio l'ai. A certi po' che veniva il suo cazzo non si veniva da tornare a casa. Ma, io avevo un po' che veniva che avevano i scolari. Scopaga deve avere nuove vesti ad ora in una mandura da domenica ad inna dell'Uverdice, vittirano soccas, calces, agire proprio in Bionpatrun, Luscizzon e un Ciceraps. Il tema del schuabackecler è usato alla fine intorno al 1914 con l'anciata dal primo anno mondiale. Da quel tema ha inviato familii pauperi emigrati, più aiuti a vivere in altri giorni. Il turismo ha scoppi un nuovo plazzo e di deve appli stranze leggi che proteggevano i affonti. Adesso, quel tema sia alla fine, è importante da buon blidare il Vergau. È interessante, ma era un po' più buono. È un po' interessante, anche un bucci lungo ruolo in un suo figlio. Non so ne so lezze, non so ne so lezze. Dovano studiare, dovano studiare, dovano lavorare. Noi, non so lezze, non so lezze. Noi, non so lezze. Noi, non so lezze. Noi, non so lezze. In questa confinzione, Anna è un gai chaffa in Porta Cleccia. E lezze, con lezze, avevano un sede Porta Cleccia in Norviades, perché lezze possono poi spetturna sempre a casa. Grazie. 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 Grazie.